Domani, 29 febbraio, investire nella cultura come garanzia di vero progresso, un'iniziativa di Vivere In e del progetto Luce sulla città. Sì, è il settimo anno che noi andiamo avanti con questo progetto, che è un cartellone di attività culturali. Noi come Movimento investiamo molto nella cultura perché crediamo che veramente solo partendo dalla cultura, intendendo per cultura tutto quello che mette l'uomo al centro, si può parlare di progresso. Il tema di questo sabato, sempre partendo dalla dottrina sociale della Chiesa, noi approfondiremo proprio l'importanza della cultura come vero e proprio investimento. Sembra quasi di questi tempi una provocazione, perché investire fa venire in mente ricavo, fa venire in mente guadagno in termini economici. Ed è classica la frase che la cultura non riempie la pancia. In realtà non è così, in parte, a parte il fatto che è stato anche dimostrato che la cultura può diventare assolutamente un'attività imprenditoriale che riporta, che porta indietro, che dà dei ricavi. Ma al di là di questo, l'idea è che solo partendo da attività di promozione dell'uomo, quindi culturali, si può parlare di vero progresso. Cioè di un progresso che metta al centro l'uomo, che faccia dell'uomo protagonista della sua storia e non semplicemente una pedina manovrata da altri. Chi sono i relatori di questo convegno? Avremmo il piacere di avere intanto Don Serafino Parise, che è biblista e che quindi affronterà il tema dal punto di vista proprio della Sacra Scrittura, e la professoressa Zaffino, che insegna la Pontificia Università Lateranense, che è una giovanissima filosofa, ma con veramente grande esperienza, proprio sulla dottrina sociale della Chiesa. Dove si terrà il convegno? Il convegno si terrà al Social Hub, che è proprio a fianco, in piazza Duomo, ecco, a fianco alla cattedrale, alle 18.30, domani pomeriggio. Vi aspettiamo.